buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde anche oggi parleremo continueremo a parlare di concorsi ordinari che sono diciamo imminenti andiamo subito alla prima domanda quando partiranno i concorsi a cattedra ordinari che tipo di prove quali punteggi saranno assegnati il csp cioè il consiglio superiore per la pubblica istruzione ha fatto i suoi rilievi ed ha espresso il suo parere quindi entro la fine di novembre o al massimo entro quello di dicembre 2021 sarà pubblicato il decreto che disporrà modalità e tempi delle prove concorsuali del concorso ordinario ci sarà sicuramente una prova scritta computer basse con 50 quesiti a risposta multipla 40 quesiti saranno riferiti alla disciplina specifica cinque alle competenze digitali e altri cinque alle competenze linguistiche la durata della prova sarà di 100 minuti passa all'orale che avrà conseguito un punteggio minimo di 70 su 100 il colloquio orale andrà ad accertare le competenze disciplinari e la capacità di progettazione didattica durerà al massimo 45 minuti per essere quindi inseriti poi in gradatoria anche per la valutazione del colloquio orale ci saranno 70 punti su 100 50 punti saranno riservati ai titoli presentati prima della delle prove seconda domanda concorso straordinario 2021 chi potrà partecipare e quale tipo di prove sono previste dunque al concorso straordinario 2021 potrà partecipare il docente precario con almeno tre anni di servizio nelle scuole pubbliche svolti negli ultimi cinque anni i tre anni non devono essere necessariamente consecutivi e almeno uno dei tre anni deve essere stato svolto nella classe di concorso per cui si richiede l'accesso il tipo di prova orale che sarà o saranno somministrate non non è ancora dato saperlo cioè non sappiamo se sarà una prova scritta o una prova orale se saranno due prove o una sola prova si ipotizza proprio invece una sola prova orale in cui il candidato espone in 40 minuti una specifica unità didattica terza e ultima domanda è vero che per accedere ai futuri concorsi ordinari anche per gli stem sono stati aboliti 24 cfu no si tratta semplicemente di una bufala giornalistica pubblicata in qualche sito web per adesso e forse ancora per qualche tempo per accedere concorso a cattedra ordinari servirà l'idoneo titolo di accesso e laddove in questo titolo sia la laurea con tutti i crediti previsti dal dpr numero 19 del 2010 del 2016 e successive modifiche in più ci saranno i 24 cfu che comunque continuano a essere fondamentali per accedere ai concorsi ordinari e vi saluto e ci vediamo la prossima settimana arrivederci a tutti grazie 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 grazie